Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, precisamente a San Vito, in Viale Ionio, in un'arteria fondamentale, uno snodo importantissimo, ma la situazione che vogliamo sottoporvi, sottoporre la vostra attenzione, è lo stato di decozione assoluto in cui si trova il manto stradale e non è solo un fatto estetico, magari fosse un fatto solo estetico, è un fatto funzionale perché innanzitutto ci troviamo dinnanzi ad un manto stradale che sembra un abito di arlecchino tra vari pezzi e rappezzi che sono stati apportati negli anni, non si è mai deciso di rifare una volta per tutte il manto stradale e oltretutto il manto stradale sta perdendo pezzi, proprio letteralmente ci sono le pietre, in buona sostanza, che si sono staccate dal manto stradale, immaginate voi cosa succede con una macchina a tutta velocità che fa partire come colpi secchi, fa schizzare queste pietre. Se si considera poi il fatto che quando piove qui si crea un lago, nella curva si crea un allagamento e se si considera che questa è un'arteria fondamentale, non solo durante il periodo scolastico, ma tutto l'anno perché qui a Mariscuole hanno sede, hanno luogo, i giuramenti e quindi è necessariamente un'arteria molto trafficata, bene, l'amministrazione comunale pur considerando questi fatti, pur considerando l'importanza e come questa arteria è percorsa, quanto è percorsa, l'amministrazione comunale non ha ritenuto opportuno rifare ancora, non ha ritenuto opportuno rifare il manto stradale. Assessore Lonucci, se questa non è una priorità, quali sono le priorità?